Di dove sei? Sono una reporter degli Stati Uniti. Lavoravo come inviata speciale. Che mi dici di te? Sono qui da solo. Abbiamo 45 minuti prima che chiudano. Bastano per ubriacarci. Ci vedremo ancora. Ancora e ancora. Sono qui per una nobile causa. Per favore avvi dei dettagli. Chi è il tuo amico? È interessato al mio lavoro. Ti sta aspettando fuori da questo hotel. Il Centro America è un po' il paradiso degli scommettitori. Ormai tutti sono decisi a scommettere su qualsiasi gioco preferiscano. Il tuo amico inglese mi interessa. Da quanto lo conosci? Come sai che è chi dice di essere? Devo solo schioccare le dita e... Una posta con 20.000 dollari sarà nelle tue tasche. Lo sai che il Dipartimento della Difesa ti cerca? Sai quanti stanno facendo il tuo gioco del cazzo? Ci sono molte persone coinvolte. Che cosa hai fatto? Qui non è semplice come credi tu. Ci farai ammazzare entrambi! Cosa ti ha portata qui? Qual è il motivo? Io volevo conoscere le esatte dimensioni dell'inferno. Cosa ti ha portata qui?